Il calo dei contagi resta graduale ma purtroppo in provincia di Salerno non si arrestano i decessi per coronavirus. Nelle scorse ore a perdere la vita è stato un sessantenne di Angri che era ricoverato all'ospedale Maria Santissima addolorata di Eboli. L'uomo in precedenza era stato in cura all'Umberto I di Nocere Inferiore e le sue condizioni sin dal momento in cui è stato trasferito erano apparse molto delicate. Si tratta della seconda vittima tra coloro che erano risultati positivi al covid nella città dell'agro. Intanto nel Salernitano anche ieri il numero dei contagi ha fatto registrare quota zero. Un andamento in linea con quello dei giorni precedenti che sta permettendo agli ospedali di tornare a respirare. Ad oggi i ricoveri nei reparti covid si sono dimezzati rispetto alla fase di emergenza e il numero dei guariti ha raggiunto quota 346 persone. Ma la guardia resta alta in tutti i presidi ospedalieri anche per farsi trovare pronti in caso di una nuova impennata dei contagi. L'unica criticità forse rimasta il tempo di latenza tra l'esecuzione del tampone ed il risultato dello stesso perché diciamo in questo momento siamo più o meno una media di 24 ore. È chiaro che i posti anche nella nostra area grigia sono pochi sono cinque e quindi qualora dovessimo avere un ritorno dell'incremento dei numeri dei pazienti sospetti potremmo avere grosse difficoltà. Se avessimo la possibilità di analizzare i tamponi in loco questo considerando che i tempi di esecuzione di un test sono più o meno di 3-4 ore noi risolveremo tantissimi problemi.